Gemma ha fatto l'amore con Maurizio Gemma, hai fatto l'amore con Maurizio? Di Gianluca ha abbandonato il trono È molto difficile quello che sto per dire Non penso che faccia da parlare Giorno 3 delle feste Penso di aver preso almeno 10 chili Per gamba E chi si è rimborti? Ciao scappati di casa Io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo nuovissimo video Dedicato a uomini e donne Gemma ha fatto l'amore con Maurizio E Gianluca ha abbandonato il trono Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre Vi ricordo se ancora non l'avete fatto Di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti E di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche Relativo ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche su uomini e donne Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ah e ricorda Sì proprio tu che stai guardando questo video Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Eccoci qui ragazzi Dopo giorni, mesi, anni Torniamo a parlare del programma del nostro cuore E cioè uomini e donne Cioè ragazzi qua mi sento proprio... No, è il contrario Non potevo non rimettere questa bellissima cover Ve la faccio vedere qua così forse E non mi hanno pagato per dirlo Ma siccome mi era stato chiesto da non so quanto tempo Dove hai preso questa cover? Aiuto, è bellissima L'avevo presa in edicola Adesso credo che le edicole siano aperte Per qualche giorno se non mi sbaglio E la trovate insieme al magazine di uomini e donne Credo che costi 5 euro Almeno io quest'estate avevo pagato 5 euro Il giornalino di uomini e donne Più questa bellissima cover Detto questo andiamo avanti Perché ovviamente oggi Torniamo a parlare appunto di uomini e donne Un video pieno zeppo di cose da raccontarvi Sono successe un sacco di cose Parleremo di Gemma Parleremo del trono classico Che insomma ha avuto uno scossone molto forte E poi insomma parleremo di tutto quanto ragazzi Di tutto Bando alle ciance andiamo subito al sodo di questo video Perché iniziamo proprio col botto Letteralmente col botto Perché parliamo di Gemma La dama del trono over da 10 anni In quello studio Ma in a gioia Ultimamente però Gemma si è come dire Avvicinata in qualche modo Al bel tenebroso Maurizio E Beh diciamo che in queste ultime settimane Sono successe un po' di cose E Abbiamo visto un certo feeling tra i due Tant'è infatti che Durante l'ultima puntata andata in onda Prima di questa pausa natalizia Beh Gemma Diciamo che Ha sganciato una vera e propria Bomba Una notizia shock Letteralmente shock Perché Sì ragazzi Gemma Ha fatto L'amore con Maurizio E a dirlo Beh è stata proprio lei Che di fronte a una domanda Un po' piccantina Del nostro Gianni Sperti Ha risposto Così Gemma Eh Hai fatto l'amore con Maurizio Sì No vabbè raga Cioè allora Chiudete tutto Io sto volando proprio Verso l'infinito E oltre Anche perché ragazzi Cioè qua dobbiamo dirlo Gemma Ha praticamente Una vita sessuale Più attiva di tutti noi Messi insieme Eh Cos'è Cosa C'è la pandemia Ci sono le distanze da rispettare C'è il fatto che Mai una gioia Chi ci esepiglia E Gemma invece In tutto questo bellissimo scenario Che è il 2020 È riuscita a concludere Con Maurizio Cioè questa è Non so ragazzi Un avvenimento Super super Finalmente Gemma Ha trovato Pane per i suoi denti Ma C'è un ma Grande quanto una casa Come sempre Perché Momento di intimità Che però Vi dico la verità Mi ha lasciato un po' L'amore in bocca Nel senso che Se Gemma Tutta felice Tutta contenta Dice sì Ormai io do la mia esclusiva A Maurizio Dall'altra parte Maurizio Forse dal mio Punto di vista È interessato a Non so A donne più Più giovani Secondo me Questo è il mio pensiero Appunto perché è interessato A donne più giovani Ha deciso di non dare Questa esclusiva A Gemma E Mi è un po' Dispiaciuto Perché comunque A una certa età Se arrivi A quagliare Se arrivi Ad avere un momento Di intimità Con una persona Forse Dico forse Ma quanto pare Qua sembra che siamo Tutti bacchettoni A sto punto Non lo so Però forse L'esclusiva Gliela dai Altrimenti Non arrivi Ad avere Quel momento Di intimità Con una persona Che comunque Ha 70 anni Questo È il mio personale Pensiero Nel senso che Forse Visto appunto L'età di Maurizio L'età di Gemma Non so Per fare un passo Così importante Forse io direi Sì Ci diamo l'esclusiva Dopo che succede No Questo Anche perché Lui sembra essere Comunque entusiasta Da un punto di vista Intimo con Gemma Quindi non è che Dici le cose sono andate male Quindi non ti voglio Basta No perché ci sta Dopo un momento Di intimità Dici No guarda Forse no Però insomma A quanto pare Invece Gli è piaciuto Hai piaciuto anche a Gemma E Non so Mi ha lasciato un po' Così perplesso Non è Non è bello Vedere Due persone Di una certa età Che Non so Che non si danno L'esclusiva Boh Forse Non dare l'esclusiva Va un po' A sminuire Quel momento Di intimità Che c'è stato Tra loro due Boh Vabbè ragazzi Chi li capisce Insomma Ha vinto al superenalotto Perché noi Non ci stiamo a capire più niente Detto questo Comunque Diciamo che A far discutere E a far arrabbiare E indignare Il popolo del web Per quanto riguarda Il trono over È stata Un'altra cosa Che è successa Prima di questo Annuncio shock Di Gemma Infatti Prima di continuare A parlare del trono classico E di tutto quello Che è successo Con Gianluca Sofì Matteo Eccetera Eccetera Volevo fare con voi Un passo indietro E tornare indietro Nel tempo di Credo Due settimane Adesso non mi ricordo Fatto sta comunque Che Lì in studio Mentre c'era Il trono over Gemma e Tina Hanno iniziato Un po' A punzecchiarsi Come sempre E Che cosa è successo Ad un certo punto Gemma Prende una bottiglietta E dice Oh Senti Adesso Basta eh Insomma Voleva vendicarsi Tutte le prese in giro Di Tina E quant'altro Tirandole dell'acqua Al che Che cosa succede Tina Scappa a gambe levate Cerca prima Di insomma Mettere L'acqua Dentro un bottiglione Poi non ce la fa Prende il bottiglione Dell'acqua Che usano loro Per bere lì Dietro negli studi E Ragazzi Assistiamo Ad una delle Non lo so Delle scene più trash Di questo 2020 E infatti Potevamo non concludere In bellezza Quest'anno Che già insomma È tutto un dire Il 2020 No ovviamente Dobbiamo concluderlo Con questo Guardate E se inizialmente Questa poteva essere Una gara Tipo Io ti tiro questo Tu mi tiri quest'altro Beh Poi come sempre Conoscendo anche un po' La nostra Tina Cipollari Si è andati Degenerando Infatti Dopo questo Scontro confronto Tipo pistole d'acqua Tra un po' È successo Il caos Nel senso che Ad un certo punto Dal nulla E qua adesso Vedrete Una faccia bellissima Di Maria De Filippi Beh Tina lancia Un altro secchio Perché era già successo Anni fa Forse l'anno scorso In testa A Gemma Guardate La Bonilde Poverina però Potevi anche avvisarvi E non me ne sono accorti Di fronte a queste immagini Il popolo del web Si è letteralmente Infuocato Si è indignato E diciamo che È andato contro Tina Cipollari In tantissime persone Infatti hanno Additato L'opinionista Di uomini e donne Come una vera e propria Bulla Anche perché Nella storia del programma Questo non è il primo Scherzo Il primo Non so come dire La prima cosa che succede Nei confronti di Gemma Cioè a volte Che ne so C'è la torta in faccia L'acqua appunto Eccetera eccetera E questi comportamenti Da parte di Tina A lungo andare Non sono per niente Piaciuti Al popolo del web Tant'è infatti Che si è parlato Veramente di Bullismo Una parola molto forte Che più volte In questi ultimi mesi In questo ultimo anno Le persone qua Sui social Hanno associato A questo rapporto Di alti e bassi Tra Tina E Gemma E vi dico sinceramente Quello che penso Allora D'accordo A volte Tina Secondo me Esagera Nel modo magari Di dire le cose a Gemma Però Parlare di vero e proprio Bullismo No ragazzi Anche perché Alla base Del trono over C'è comunque Questa faida Tra Gemma E Tina Cioè il fatto Che loro si punzecchino Che ci sia sempre Questi sguardi Così che si lanciano Le saette I fulmini Insomma Tra gli occhi Cioè un po' Da quel pepe Alla trasmissione Il trono over È ovvio che sia Tina contro Gemma Più poi Tantissime altre Belle dinamiche Che ci sono E che si stanno Creando anche In questi ultimi Mesi Però Cioè È innegabile Che Tina contro Gemma Ugale trono over Palese questa cosa E Meno male Che ci sono Questi momenti Anche un po' Per smorzare Quella che è la tensione Di queste coppie Che lì Nel parterre Si dicono No ma tu Ma di qui di là E basta Ma lanciatevi appunto Un po' di secchi d'acqua E vi ripigliate un attimo Ed è questo Quello che è successo Tra Tina e Gemma E vi dico sinceramente Che Perché è sbagliato Urlare al Bullismo Tina è una bulla Perché La stessa Diretta interessata Di questa secchiata D'acqua in testa Cioè Gemma Ha commentato In maniera ironica Quello che è successo Quindi Se non ha dato fastidio a lei Perché dovrebbe dare fastidio a noi E Detto questo Volevo appunto Leggervi Quello che è stato Il commento Fatto da Gemma Dopo la messa in onda Della puntata Sotto un post Di trash italiano Che appunto ha scritto Ma cosa succede Cioè Gente che si butta secchi d'acqua E quant'altro E Gemma risponde con Le cascate del Niagara La prossima volta Porterà un pezzo Del ghiacciaio Perito moreno Con tutti i pinguini Vabbè insomma Questo Perito moreno Non so cosa voglia dire Scusate l'ignoranza Però insomma Ha un attimo anche lei Smorzato sull'argomento Va bene Tina ve lo ripeto A volte magari dice le cose Con molta enfasi Con molto trasporto Nei confronti di Gemma Però ragazzi Cioè parlare secondo me Di bullismo In questo preciso caso Della secchiata d'acqua Del gavettone Anche no Ecco Ridimensioniamo un attimo Le polemiche qua Sui social Perché qualsiasi cosa Venga fatta Sembra sempre Cioè Un grido al bullismo Quando in realtà È un gavettone Ce li facciamo tutti Magari non a dicembre Ma ce li facciamo A giugno A luglio A settembre Che ne so Cioè viviamo anche Con un minimo di leggerezza Quello che è il programma Perché il programma È molto leggero Quando succedono Anche queste cose Quindi Non parliamo a sproposito Di bullismo Di temi molto delicati Che colpiscono Veramente tante persone In modo Molto forte Cioè Le persone veramente Vittime di bullismo Non è che ricevono Solo un secchio d'acqua Per scherzo In una trasmissione televisiva In un momento leggero Le persone bullizzate Diciamo che Vivono tutt'altro Tipo di situazioni Punto E basta Adesso però Cambiamo completamente Argomento E dal trono over Ci spostiamo Ci catapultiamo Direttamente In quello classico Lo sapete Ormai Questi due troni Vivono Convivono insieme In tutte le puntate E devo ammettere Che risulta Anche più interessante Forse Quella che è la dinamica Tra i ragazzi giovani No? Perché Magari qualcuno Ad occhio a qualche over Qualche over Ad occhio a I corteggiatori O forse i tronisti Anche non lo so Staremo a vedere Quello che succederà Più avanti E il programma Devo ammettere Che ha È cambiato un po' È comunque interessante E vi dico la verità Io almeno poi Fatemi sapere poi voi Cosa ne pensate Lo seguo Con più interesse Durante tutte Le varie giornate Di messa in onda Però insomma Sarà perché appunto C'è un po' di classico Un po' di over Un po' di classico Un po' di over E il mio preferito In assoluto È il trono di Sofì Detto questo Adesso focalizziamoci Su un trono particolare E cioè quello Di Gianluca Il bel tenebroso romano Che ragazzi La sua voce Mi ricorda quella Di Pino Insegno Non so se a voi Ha fatto lo stesso effetto Però a me sì A parte che Gianluca Parlami la vita Perché è bellissima voce Bellissimo accento Fatto sta comunque Che in questi mesi In questi tre mesi e mezzo Di percorso Non sono andato Come previsto le cose Diciamo che Gianluca ha avuto sì Delle frequentazioni Ma mai nessuna Lo ha convinto al 100% Le sue corteggiatrici Forse non erano interessanti O forse non erano Interessate a lui È stato un po' Un percorso A uomini e donne Anonimo E si vedeva anche Che lui molto spesso Era un po' Spaesato Cioè cadeva un po' Dal pero a volte E si sentiva forse Un pesce fuor d'acqua Perché capita ragazzi Magari noi da casa Diciamo sì Vabbè ma che sarà mai Stare lì a parlare Dei tuoi sentimenti Davanti a tutti Vabbè capirai no? E beh però Provate a farlo voi Provate a mettere in gioco Le vostre emozioni I vostri sentimenti E tantissime persone Si possono permettere Di commentare Questa cosa Non solo lì in studio Ma anche sul web Sui social Sui giornali Ma che ne so Ovunque no? Non è semplice E Se non sei abbastanza Preparato a questa cosa Ti capita di dire Ok basta E diciamo che questo È quello che è successo Al trono di Gianluca Che se era Partito col botto Mettiamola così Piano piano Diciamo che ha detto Vabbè Addio Addio Amici Addio Questo è l'orso Della casa blu Ma è un'altra storia E quello che è successo È stato proprio questo Gianluca Durante l'ultima Messa in onda del programma Prima di questa Pausa natalizia Ha deciso di fare Un annuncio Comunque ci ha provato Con l'aiuto di Maria Guardate È molto difficile Quello che sto per dire Maria ha promesso a me stesso Dall'inizio Non penso di facciare a parlare Lui decide di lasciare il trono Non stava costruendo niente Con nessuna ragazza Bene sì ragazzi Gianluca ha abbandonato Definitivamente Il trono di uomini e donne Ve lo ripeto È stato un percorso Abbastanza particolare il suo Forse non è riuscito a farsi Conoscere al 100% Forse non è riuscito ad aprirsi Al 100% Con le persone che erano lì Per lui Se pensiamo infatti Al percorso di Davide E quello di Sofì Beh Sono due ragazzi Che si stanno dedicando Tanto a delle persone Che sono lì Nello studio Per loro Davide ha Chiara Beatrice Forse è un'altra persona Che non mi ricordo Sofì Ha invece Matteo Giorgio E Antonio Quindi insomma Hanno dei percorsi Anche abbastanza avviati E iniziano a sentire Un qualcosa Parlando proprio di questo Infatti adesso però Voglio chiudere qua il cerchio Con Gianluca Mi dispiace veramente tanto Del suo Del suo abbandono Perché Non so A me piaceva Per quanto Magari come tronista Poteva essere abbastanza Anonimo Mettiamola così Perché non si è fatto Conoscere più di tanto In questi mesi Dall'altra parte Mi ha sempre dato Quella Quell'impressione Di bravo ragazzo E come qualcuno Ha detto Forse Tina o Gianni Lui comunque Lascia un bel ricordo Alla trasmissione Lascia un bel ricordo A uomini e donne Nonostante Non abbia fatto una scelta Non abbia Insomma Concluso il suo percorso Detto questo Cambiamo Una volta per tutte Argomento E Parliamo di quello Che vi dicevo prima E cioè Del trono classico Che più mi sta piacendo E che più mi sta Appassionando Forse anche perché Insomma ragazzi Ci sono dei veri e propri Manzi di quali te Cioè ragazzi Te che stiamo a parlà Perché parliamo appunto Del trono Della nostra Sofì Super giovanissimo Super chiacchierata Sui social Perché era modella Di Chiara Ferragno Forse lavorava Nel negozio di Chiara Ferragni Non lo so Fatto sta comunque Che in questi mesi Ci ha tenuto incollati Alla tv E perché dico così? Beh perché il suo trono Sinceramente Mi sembra quello più interessante Da una parte infatti Abbiamo Matteo Dall'altra abbiamo Giorgio E Antonio In queste ultime settimane La nostra Sofì Si è completamente dedicata Solo ad uno Di tutti i suoi corteggiatori E parliamo di E lui O non è lui Ma certo che lui ragazzi Perché parliamo di Matteo Cioè Matteo Un nome Una garanzia Beh che dire Matteini e Matteine Fino a qualche giorno fa Tutto bello Tutto ok Tutto molto interessante E insomma diciamo che Tra Sofì e Matteo Tutto sembrava andare Per il verso giusto Ma C'è un ma Grande quanto una casa Come sempre E perché dico così? Beh perché Vista l'ultima puntata Andata in onda Prima di questo Natale Le cose si complicano un po' Tutto parte da questa Sorta di disinteresse Che Matteo Proverebbe Nei confronti di Sofì Cioè Se vediamo una Sofì Molto interessata A Matteo Molto Proiettata Anche in una sorta Di relazione Con lui Perché insomma Se io ti dedico La mia unica esterna Voglio uscire con te Voglio stare con te Bla 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 Vuol dire che un po' Mi piace Altrimenti siamo tutti pazzi Bene Sofì Sotto un treno Secondo me Per Matteo Anche perché Ragazzi Cioè Parliamone Allora adesso Parliamone Matteo è Un bellissimo ragazzo Timido Cioè È una persona Che è entrata In punta di piedi In questo programma E che dici Cavolo Cioè La sua esteriorità Poi vedi che ha Il cuore tenero E timido E Dici Cavolo Cioè Mettimi l'anello al dito Andiamo Scappiamo via insieme Facciamo una bella Luna di miele Ma anche a bellare A Giamarina Andrei con te Cioè capisci Matteo A che livelli siamo Tutto questo È stato molto bello Finché ad un certo punto Però Cioè Sofì dice Ok Io ti sto però corteggiando Secondo me Perché insomma Faccio qualsiasi cosa Per stare con te Per conoscerti Per farti conoscere Una parte della mia famiglia Ad esempio Ha fatto una videochiamata Con sua mamma E tu che fai? Cioè Sembri sempre più distante Tant'è infatti Che ad un certo punto E qua proprio Si apre il vaso di Pandora Letteralmente In tutti i sensi Ad un certo punto Maria De Filippi Chiede a Matteo Ma Tu Se Sofì dovesse sceglierti Oggi Cosa risponderesti E ragazzi La risposta di Matteo Fa proprio Non so neanche come dire Fa arrabbiare chiunque Ma giustamente Fa arrabbiare Sofì Fa arrabbiare il pubblico E questo È il risultato Guardate Sofì l'ha detto no Io ho detto due volte no No Io ho detto sì o no Io ho detto no Ma ti ho spiegato il perché il no Ma tu sei ridicolo Tu fai schifo Io faccio schifo Fai schifo Ecco Diciamo che insomma La risposta di Matteo È stata un po' spiazzante E secondo me Sofì insomma Ha tutte le sue ragioni Per aver reagito In modo Molto forte Forse un po' troppo Ma secondo me È dato dalla sua giovane età Alla fine A 18-19 anni Ci sta Che magari Dici fai schifo Ma non vuoi proprio dire Fai schifo Cioè sei più Più che altro sei delusa No Non vuoi dire fai schifo Nel senso che Mi fai schifo Quindi vabbè Un po' Posso perdonarla Per la sua età Però un consiglio Per il futuro Ma anche per tutti quanti voi Che mi state guardando Quando siete un po' In crisi Arrabbiati Con la persona Che avete al vostro fianco Cercate Cercate Quanto meno Di mediare Un po' No Magari volete dire Fai schifo Veramente Cercate di dirlo In un altro modo Magari in meno forte Ogni tanto ci sta Ogni tanto ci sta A volte Magari Si esagera Però tutto sommato Lì al posto E voi Qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate Di tutto quello Di cui abbiamo parlato Dell'abbandono Del trono Da parte di Gianluca Di Sofì e Matteo Che forse si lasciano Forse no Forse non si capisce più niente E dall'altra parte Abbiamo invece Gemma Che finalmente Ha fatto All'amore Con il suo Amato Maurizio Insomma ragazzi Cioè veramente Uomini e donne Spero che ritorni Tra due giorni Ma purtroppo Dovremmo aspettare L'11 gennaio Che pare N'eternità Il video comunque Può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel Pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti I miei social Dove potete Seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao